Ciao a tutti ragazzi, sono Alessandro e benvenuti in questo nuovo video. Oggi cos'è arrivato? Un pacco, ora vediamo cosa è arrivato. Wow ragazzi, le ultime audiofiabbe! Abbiamo la fenice e c'è anche un'altra schedina. Quindi abbiamo finito il raccoglitore 2. Il pescatore Taro Urashmiya. E poi abbiamo il leone e il topo. Poi abbiamo Pierino e il lupo. Poi abbiamo un libricino e per l'avviso dei lettori. E poi abbiamo un libro di tutte queste qui che ci potrebbero inviare la prossima volta. Vabbè, noi intanto proseguiamo con i cenni turbatici. Ciao, al prossimo video dell'audiofiabbe!